Benvenuti al nuovo appuntamento con l'agenda di Sardinian Life, la rubrica con i consigli su come e dove passare il vostro tempo libero in Sardegna. Vediamo alcuni degli eventi più importanti che ci attendono il prossimo weekend. Iniziamo con i nostri consigli da Villa Nova Franca il 4 novembre, strade dello Zafferano. Primo appuntamento con lo Zafferano di Sardegna DOP, la pregiata Spezia assume il ruolo di filo conduttore della narrazione di ricette, curiosità e storie. Per maggiori informazioni possiamo visitare la pagina Facebook strade dello Zafferano di Sardegna DOP. A Cagliari dall'1 al 4 novembre in Vitas, è la grande festa del fatto e prodotto in Sardegna che per quattro giorni animerà i padiglioni al coperto della fiera di Cagliari con il meglio delle produzioni enogastronomiche e artigianali della Sardegna. Programme maggiori dettagli sulla pagina Facebook della manifestazione Dall'1 al 4 novembre ad Esulo, La Montagna Produce. Appuntamento con la fiera mercato dei prodotti tipici della montagna, poi le mostre d'arte e di artigianato in un clima di festa e tradizioni. Possiamo scaricare il programma della manifestazione dalla pagina La Montagna produce ed esulo. Sabato 4 novembre a Masua, spiaggia d'autunno. Nella frazione amare di Iglesia sul ricco programma tra degustazioni, fiera dell'artigianato locale, musica dal vivo e l'immancabile castagnata. Tutte le info utili le troviamo nell'evento postato su Facebook. A Cagliari dall'1 al 4 novembre Marina di Gusto. Quattro giorni di degustazioni, mostre e artigianato con i prodotti tipici selezionati dai centri commerciali naturali della Sardegna. Possiamo scaricare il programma dalla pagina Consorzio Cagliari Centro Storico. Vi ricordo che tutti gli appuntamenti sono online sulla pagina Facebook di Sardinian Life. Se invece volete segnalare o promuovere il vostro evento in questa agenda inviate una mail a infochiocciolasardinianlife.it